Intanto io penso che la città ancora non ci creda a una cosa del genere, perché sembra una cosa impossibile riuscire ad abbattere il ferro di cavallo che da sempre è un grumo mefitico in questa città, considerata la cosa più negativa anche a livello nazionale. Noi come le formichine siamo andati avanti, mentre gli altri facevano i tour televisivi dicendo che tutto andava male, abbiamo liberato gli appartamenti e oramai sono quasi tutti vuoti perché abbiamo risistemato in altri alloggi coloro che avevano titolo per avere l'alloggio, abbiamo messo fuori gli abusivi, quindi entro fine maggio tutto quel palazzo sarà completamente svuotato. Poi l'ATER potrà provvedere alle operazioni dell'abbattimento. Adesso come fanno quelli del no ad ogni costo a continuare a dire che questa è un'operazione sbagliata? Ovviamente sanno che non è sbagliata, sanno che l'operazione è un'operazione troppo importante e troppo grossa, però lo devono dire perché sono i fautori del no. Adesso che cosa dicono? Ma l'intervento che si farà successivamente non è un intervento di vera riqualificazione, invece è un intervento di grandissima riqualificazione. Dove abbatteremo, e non abbatteremo solo il ferro di cavallo, ma abbatteremo anche altri tre fabbricati che sono pericolanti da 12 anni, a Via Lago di Borgiano, dove abbatteremo? Da una parte realizzeremo una piazza e al ferro di cavallo realizzeremo, al posto di 110 appartamenti, 53 appartamenti. Ma come li realizzeremo? Appartamenti di qualità. Perché non sta scritto da nessuna parte che le case di edilizia residenziale pubblica debbano avere per esempio i balconi di 1,20 m e non possano averli di 2,50 m come invece noi li realizzeremo. Perché dopo il covid il paradigma delle case è cambiato totalmente. Oggi occorrono spazi privati, ampi, anche all'esterno per poter vivere all'esterno. Occorrono spazi pubblici, ampi, per chi vuole vivere invece in mezzo alle persone. Occorrono case che abbiano una efficienza energetica massima. Occorrono case che abbiano verde. Questo noi realizzeremo. Realizzeremo piazze, realizzeremo case con balconi ampi, con piante, con verde, efficienti dal punto di vista energetico e autonome dal punto di vista digitale. Quindi case che potrebbero stare a piazza Salotto.